La cosa più importante è che abbiamo vinto io tutti i giorni, ho pensato di questo l'ultimo tre anni, finalmente ho vinto, la mia squadra ho vinto questo premio ma a me veramente non conta niente perché ce l'abbiamo fatto tutti insieme. Dejan, quanta sofferenza, anche perché siete arrivati alla fase finale dopo un campionato lungo, impegnativo, sono arrivate le migliori e quindi partite intense. Noi abbiamo dimostrato già in campionato che siamo i più forti, abbiamo anche fatto i fasi finali e abbiamo vinto ancora qua, quindi certo che siamo contenti tutti. Dejan, il momento più bello di questo campionato, questa sera? Sì, ma per forza, noi è da tre anni che cerchiamo questa vittoria, io sono troppo contento per per lo staff, per quelli persone, anche quelli che lavorano da Atalanta da tipo 20 anni così che non hanno vinto, sono contento per quelli persone. Dejan, e adesso? Meritate vacanze? Troppo, io non vedo ora di domani di vedere i miei genitori, questo miglior giocatore lo do a mia mamma, sì, solo a lei voglio darla perché lei è il migliore. 佐 ampio. Ho! 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 Grazie a tutti